Un recente documento del dicastero laici famiglie vita si occupa dei movimenti ecclesiali, tutte quelle associazioni di fedeli laici che hanno acquisito una notevole importanza nella vita della Chiesa, specie sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. Certamente per alcuni questi movimenti hanno rappresentato l'occasione per riavvicinarsi alla Chiesa, ma non di meno e si hanno posto tanti interrogativi agli osservatori attenti che hanno visto in alcuni di essi dei pericoli che forse non sono stati ben considerati. Se pensiamo ad un movimento ecclesiale tradizionale come l'Azione Cattolica, pensiamo ad un'associazione che riuniva i fedeli per perseguire i fini dottrinali della Chiesa Cattolica. Era un modo per organizzare i laici in difesa di certi valori che tutti condividevano. Invece in alcuni movimenti ecclesiali di oggi troviamo una forte spinta al personalismo che a volte si incarna nella figura del fondatore o della fondatrice. Ci si sente quasi una Chiesa nella Chiesa, anzi la vera Chiesa. Frequentando in passato dei membri di questi movimenti e i movimenti stessi ho avuto l'impressione che la loro militanza non era nella Chiesa ma malgrado la Chiesa, visto che essi davano l'impressione di appartenere a gruppi che avevano finalmente capito come essere veri cattolici, a scapito di tutti noi altri. Questo poteva essere edificante se non ci si trovava spesso in presenza di deviazioni dottrinali anche gravi, verso l'eucaristia, il sacerdozio, i sacramenti in generale e via dicendo. Purtroppo le devezioni non venivano dovutamente corrette dalla gerarchia ecclesiastica, che passavano sopra degli elementi fondamentali della nostra fede in quanto vedevano in questi movimenti una salvezza dallo svuotamento delle Chiese. È stata una mossa azzeccata? Non direi, visto che ha contribuito sempre più ad indebolire l'identità della Chiesa, fino all'apparenza spesso indefinita che molti osservano oggi. Ripeto che non nego le cose buone che in questi movimenti sicuramente si trovano, ma non si può negare anche il lato oscuro in alcuni di essi che, non essendo stato mai affrontato dovutamente, ha attecchito in profondità nella vita della Chiesa. In passato abbiamo avuto gli ordini religiosi che hanno portato nella Chiesa a diverse declinazioni della stessa fede. Erano movimenti suscitati dallo spirito nella Chiesa. Ma a me sembra che in alcuni dei moderni movimenti ecclesiali, fatto salvo le cose buone di cui ho già riferito, si è spesso cavalcata la narrativa di una certa Chiesa postconciliare, una narrativa che rinnegava e rinnega la tradizione e tentava e tenta di liberarsene, facendo della Messa un luogo di affermazione della propria identità di gruppo piuttosto che la manifestazione della presenza di Dio.